Un cordiale saluto, buongiorno e benvenuti a tutti voi cari telespettatori di Fano TV. Buon inizio settimana, siete sul canale 19 del Digitale Terrestre e questa è Occhio ai giornali, la rassegna stampa che con il sottoscritto diventa un commento alla stampa del giorno e che come sempre vede in apertura l'almanacco con il santo del giorno, poi le previsioni del tempo e una sfogliata ai due quotidiani che abbiamo come sempre sul nostro touchscreen e il resto del carino del Corriere Adriatico. Andiamo subito a vedere il cartello se è disponibile, sì, il martirio di San Giovanni Battista. Allora, è la memoria oggi della passione di San Giovanni Battista che il re Erode Antipa tenne in carcere nella fortezza di Maccheronte, nell'odierna Giordania, e nel giorno del suo compleanno, su richiesta della figlia di Erodiade, ordinò di decapitare, gli hanno tagliato la testa. Per questo precursore del Signore, precursore di Gesù, come lampada che arde e risplende, rese sia in vita sia in morte testimonianza alla verità. Dunque oggi facciamo memoria della decapitazione di San Giovanni Battista. Il sole è sorto alle 6.27, tramonterà alle 19.50. Adesso andiamo a vedere il tempo, partendo però da un'immagine che arriva in diretta dalla spiaggia di Velluto di Senigallia. Questa è l'immagine di Skyline, un sito che potete trovare anche voi, dove ci sono le telecamere più o meno da tutto il mondo. E questo è un po' uno spaccato che ci dice un po' come vanno le cose là a Senigallia, in questa bellissima spiaggia di Velluto. Vedete il sole ancora non è forte, anzi credo ci siano delle nuvole, sì ci sono delle nuvole. Però insomma, come vedete, siamo in fondo all'estate, siamo alla fine di agosto. Ma questa è una settimana che ancora vede protagonisti, insomma, anche dei turisti che sono arrivati, altri che sono partiti. E allora li salutiamo, tutti quelli che sono all'ascolto e che magari per la prima volta vedono il nostro canale. Dunque, per la giornata di oggi però, cari turisti e anche a tutti i residenti che ci seguono e che abitano quindi nella nostra regione, questa è la fotografia, l'immagine del bollettino meteo della giornata di oggi. Lunedì 29 agosto il Servizio di Protezione Civile delle Marche prevede per la giornata odierna, nel pomeriggio soprattutto rovescio temporali sparsi sulla fascia collinare e montana, con fenomeni localmente di forte intensità. Dunque, per chi volesse fare qualche cappatina all'interno, ecco, forse oggi non è proprio indicato andare in montagna o fare passeggiate in mezzo alla natura, perché come vedete ci sono soprattutto dal pomeriggio i temporali. Per domani invece c'è questa nuvoletta fantoziana un po' sulla provincia di Pesurbino, infatti in serata brevi rovescio temporali sul settore basso collinare costiero settentrionale, quindi domani sera sono previsti questi brevi rovescio temporali sul Pesarese, per il resto direi che, insomma, niente di che. Mentre il 31, l'ultimo giorno del mese, l'ultimo giorno di agosto, dopo averci fatto penare tanta siccità, ecco queste giornate alternate con pioggia, che è benedetta assolutamente, quindi dalla tarda mattinata di mercoledì 31 avremo rovescio temporali sparsi inizialmente sulle zone appenniniche, poi in direzione verso la costa nel corso del pomeriggio, quindi l'acqua dovrebbe raggiungere sia non solo la parte appenninica, ma anche la costa e quindi bagnare e aiutare la nostra terra a dissetarsi. Questo è un po' quello che riguarda appunto il tempo. Adesso invece andiamo a leggere i quotidiani. Cominciamo dal Corriere Adriatico. In apertura l'edizione di Pesurbino questa mattina pubblica la questione delle maxibollette. Sapete, non so, anche noi qui a Fano TV abbiamo avuto l'ultima bolletta, c'erò di là, da capogiro 2.400 euro, se non ricordo male, 2.400 contro i 1.000, più o meno il mese di agosto dell'anno scorso, erano 1.400 euro, perché qui siamo costretti a far andare avanti un po' i condizionatori, anche e soprattutto nella sala regia, dove ci sono gli impianti che vanno continuamente, tutti i computer, eccetera, quindi più o meno 1.400, ma forse anche qualcosa di meno. quest'anno è arrivata a 2.500, quindi una differenza notevolissima. E come noi, insomma, tantissime aziende, ma poi arriveranno le stangate anche a casa, quindi preparatevi. Io non so come faremo quest'inverno, davvero, e soprattutto come si è arrivati a una situazione del genere. Non so se veramente per la guerra o perché qualcuno ci sta speculando, perché c'è una volontà precisa di buttarci con il sedere per terra, non lo so. Comunque sia, questa è un po' la situazione. E adesso si comincia a parlare di addirittura didattica a distanza nelle scuole che decideranno durante l'inverno di ridurre la settimana, quindi non più 5-6 giorni di scuola, ma addirittura uno in meno, e quel giorno in meno che servirà per risparmiare energia. Io non lo so. Siamo veramente alla follia. E questo è il primo commento che faccio questa mattina. Allora, Maxi Bolletta, andiamo sul giornale. Cinema al buio, conto da 190 mila euro. Giometti, che dice, così chiudiamo, scuole un'idea farle diventare mini centrali elettriche. Scuole un'idea farle diventare mini centrali elettriche. Poi impianti, natatori, cioè le piscine, sostegni per le bollette, ma anche investimenti sia sull'efficientamento che la sostenibilità. Poi a centropagina, ecco, beati loro, la festa per Matteo e Federica Pellegrini, festa di nozze fino all'alba, il sexy tango, poi la prima notte. Sotto addio a Mensitieri, che è un giudice che è stato definito colto, riservato, insomma è morto. Il sottopasso del Lido, invece, ha lagato la soluzione ora slitta a novembre e a Urbino, celebrazioni, il PD chiede il ritiro della delibera a Sgarbi. Poi un mortale, purtroppo, sulla Flaminia a Fano, un sorpasso fatale in moto. La vittima è Fabrizio Agostini, 43 anni, di Lucrezia, finito contro l'auto di turisti che svoltava a sinistra. Lo vedremo tra poco. Poi lo sport, il Fano batte il Montegiorgio e avanza in Coppa Italia. Per la politica, invece, c'è un'intervista sul Corriere di oggi. Battistoni, l'obiettivo è vincere dappertutto, parla appunto il commissario regionale di Forza Italia, candidato per il centrodestra nel collegio uninominale alla Camera, Ascoli Fermo. Questa, invece, è la pagina del resto del Carlino, la pagina delle Marche, che ogni lunedì esce in una versione, come vedete, regionale, con tutte le province. Praticamente questo puzzle un po' confusionario, ma comunque questo è. Partendo, andando a vedere la cronaca di Pesaro, eccola qui. Tragedia sulla Flaminia, in moto contro un SUV, operaio perde la vita. Questo è il titolo. Mentre ad Ancona, bagni vietati, è un blef, ma fioccano disdette. Parliamo di Falconara per la precisione. La bozza dell'allerta, per sbaglio, è finita sul sito del comune di Falconara. Una bozza che a un certo punto, misteriosamente, è stata pubblicata. E quindi, giustamente, chi andava a vedere se si poteva fare il bagno oppure no, quel giorno, ha visto questa cosa che però non doveva esserci. Questo avviso che non doveva esserci. Il capo dei bagnini, Filippetti, dice una domenica praticamente rovinata. Vedete quanto basta poco per mandare per aria tutto quanto. Ascoli Fermo, invece, sotto incendio doloso nella notte, l'ira del sindaco da Montefiore dell'Aso, faccio denuncia ai carabinieri. Poi a Monte Granaro, invece, un'altra vittima della strada, lo schianto in scooter, oggi l'addio a Iounes. E poi l'economia, economia marchigiana, con i calzaturieri e la conquista di nuovi mercati. Guardiamo gli Stati Uniti e l'intervista al presidente Valentino Fenni. Poi c'è una notizia che arriva da Fano, invece, la vedremo tra poco. Eccola qua, sempre, ripeto, su questa prima pagina un po' così, dove si perdono un po' le notizie. Ma comunque, Fano, la variante passa sotto casa. La proprietaria, quando ha visto il progetto, è stata accolta da Malore e quindi è stata portata in ospedale. Cominciamo dalle pagine interne dei giornali. Allora, il Corriere Adriatico, per quanto riguarda lo schianto fatale, muore a 43 anni. Questo è il titolo, la foto della vittima, come vedete sulla destra, Fabrizio Agostini, eccolo qua. Lui è di Lucrezia. Con lo scooter sorpassava l'auto che svoltava a sinistra. La Flaminia ha colpito ancora. Inizia così l'articolo del giornale. La strada si rivela sempre più pericolosa a sostenere il traffico attuale, diventando teatro di incidenti mortali. Ieri intorno alle 13.15 è avvenuta l'ennesima tragedia che è costata la vita ad un motociclista che stava percorrendo l'ex consolare in direzione Maremonte, poco dopo la frazione di Rosciano. Fabrizio Agostini, 43 anni, celibe, conosciuto dagli amici come Bicio, residente a Lucrezia di Cartoceto. E queste sono le fotografie che riguardano l'impatto. Anche noi stasera vi faremo vedere, faremo, dedicheremo un servizio nel telegiornale delle 20 e 30. Ecco, questa è la motocicletta. Praticamente sono brutte queste fotografie. Non so perché vengono stampate in questo modo dal Corriere Adriatico. Non si capisce niente. Ma comunque, ecco, questi sono i rottami di questa moto disintegrata da questa BMW, qui è finito appunto contro lo scooter. Sotto c'è un'altra notizia invece di un soccorso, un soccorso che è avvenuto a Fossombrone. Un cacciatore ci è finito in questo dirupo, è precipitato nella scarpata, si ferisce gravemente, viene trasportato con l'elicottero all'ospedale di Torrette di Ancona. Se la caverà il cacciatore che sabato mattina durante una battuta con i suoi cani nelle campagne vicino a Fossombrone è caduto per parecchi metri in un dirupo e ha riportato diversi traumi. La chiamata al 118 è arrivata intorno alle 7.30. Dal resto del Carlinio invece, ecco qua la mezza pagina che riguarda appunto questa tragedia. È rimasto cosciente, inizia così il pezzo di Del Rico, è rimasto cosciente per alcuni minuti dopo il terribile schianto contro un SUV della BMW, ma poi Fabrizio Agostini, detto bicio, 43 anni, operato di Lucrezia, non ce l'ha fatta. L'uomo era riuscito a scambiare qualche parola con i soccorritori, parole che ha sussurrato a fatica, accusando poi un forte dolore al petto e perdendo poco dopo conoscenza. L'incidente è avvenuto intorno alle 14 di ieri, nel primo pomeriggio, nella frazione di Rosciano, all'altezza del nuovo distributore di carburanti. Un'automobilista ha prestato i soccorsi al ferito, cercando di confortarlo fino all'arrivo del 118. Poi i sanitari gli hanno praticato un primo massaggio cardiaco, ma non sono riusciti a salvargli la vita. Qui c'è tutto il racconto, un po' della dinamica con questo incidente, questo impatto tremendo con questo SUV. Sul posto anche il sindaco di Fano, Massimo Seri, che ha seguito le fasi dei soccorsi. Il primo cittadino espresso, parole di vicinanza, e cordoglio alla famiglia del Centauro, sottolineando che questa tragedia ha funestato questo periodo di vacanza, coinvolgendo anche questa giovane famiglia di turisti, che insomma si ricorderà per tutta la vita di questo evento. Poi invece sotto, sempre sulla pagina di Fano del resto del Carlino, una notizia che vi leggevo appunto con quel flash in apertura, c'è di questa donna, che si chiama Elisabetta Corraducci, che vedete nella fotografia pubblicata sul giornale, che è finita in ospedale attaccata ad una flebo dopo aver avuto un malore. Perché si è sentita male? Perché è finita il pronto soccorso per l'ansia scatenata da questa variante, nel piano regolatore, cosiddetta variante di Gimarra, che passerà pochi metri dalle finestre della sua abitazione, in via del torrente, siamo nella zona trave. Elisabetta Corraducci, figlia dell'ex assessore pesarese Gerardo Corraducci, ed è collassata per la nuova strada che rischia di praticamente di compromettere la scelta fatta qualche anno fa da lei e dal marito, di avere un'abitazione in un angolo tranquillo della città immersa nel verde, ma a due passi dal centro. E a questo punto non sarà più a due passi dal centro, ma sarà a due passi dal traffico, perché come prevede la variante, di Gimarra appunto, cosiddetta di Gimarra, verrà costruita una strada proprio a ridosso della sua abitazione. Il Comune, tra l'altro, c'è questa procedura in corso, il Comune di Fano sta inviando 121 lettere di esproprio ai vari proprietari dei terreni interessati da questa opera, da questa infrastruttura viaria che servirà appunto per alleggerire poi il traffico comunque per andare verso Pesaro. Questo è il racconto che troverete sulle pagine del resto del Calino. Torniamo invece sul Corriere. Restando sulla pagina di Fano, sottopasso del Lido sott'acqua. Questo è un problema che i fanesi conoscono benissimo, mentre qualche turista, che probabilmente ci è capitato per la prima volta, magari si sarà pure divertito a fare qualche video di questo sottopasso di nuovo allagato, finito sott'acqua, l'altro giorno, quando c'è stato il temporale che ha riversato tanta pioggia in pochi minuti, l'assessore Brunori si giustifica con i tempi di Enel per collegare la cabina alla vasca, perché lì in realtà, come ormai ben sapete, i fanesi sanno, insomma, chi abita da quelle parti sa, lì c'è tutto un sistema di pompaggio dell'acqua che dovrebbe poi svuotare e quindi evitare di arrivare a quelle situazioni lì, quindi con la strada piena d'acqua, questo sistema di pompaggio che porterebbe poi l'acqua direttamente fuori sul canale. Però a quanto pare manca la corrente, insomma, una cosa del genere, quindi è una cosa che sta andando avanti da un po' di tempo. Vediamo, vediamo, gli allacci da realizzare, dice, devono essere realizzati, dice l'assessore Brunoli, gli allacci tra la cabina, tra la centralina dell'Enel che è stata realizzata nei giardini vicino alla Cavea e la vasca stessa dove devono essere posizionate in maniera definitiva le pompe, l'Enel ci ha garantito, dice ancora l'assessore, che questo intervento verrà effettuato entro il mese di settembre, per cui ritengo che potremo essere a regime a fine ottobre o a inizio di novembre. Quindi per, questa potrebbe essere stata l'ultimo allagamento, vedremo se poi sarà così oppure no. Intanto torniamo di nuovo sulla cronaca perché a pagina 22 del Corriere Adriatico di oggi c'è un'altra notizia di quelle che lascia un po' con il fiato, senza fiato. Sono immagini che arrivano dalla stazione di Falconara, shock sui binari, si impicca ad un semaforo, lo scopre un ragazzo dal treno in corsa. Ho subito pensato che fosse un cadavere, non volevo crederci, il recupero poi ad opera della Polizia Ferroviaria, la Polfer. Un ragazzo dunque che viaggia su un treno regionale per Ancona, ha un sussulto, dal finestrino scorge una sagoma inquietante, si preoccupa e lancia l'allarme. Ho subito pensato che potesse essere il corpo di un uomo che penzolava da un palo e non volevo crederci, dirà poi agli agenti di Polizia Ferroviaria, purtroppo però la segnalazione del giovane era vera, non era sbagliata. Su quel semaforo al binario 1 a 300 metri dalla stazione di Falconara penzolava il cadavere di un uomo di 61 anni residente a Dorte in provincia di Viterbo. Erano le 8 di ieri mattina, in spiagge c'erano già tanti bagnanti, ricevuto l'allarme e gli agenti della Polfer di Ancona hanno compiuto la drammatica scoperta, quella di un uomo che dalle foto sui documenti sembra ancora più giovane che ha deciso di togliersi la vita sprofondando nel buio di un tunnel da cui è impossibile uscire. L'uomo sarebbe giunto proprio in treno dal Lazio. L'unica certezza non ha lasciato nessun biglietto, l'unica certezza è che non ha avuto esitazione nell'attuare questo suo progetto di morte. Ancora dai giornali di questa mattina tornando sul resto del carlino edizione sempre di Pesero Urbino magistratura in lutto si è spento il giudice Alfredo Mansitieri il figlio Edoardo dice di lui era un uomo che ha dedicato la vita alla professione l'avvocato Mario Giannola persona che sapeva ascoltare ha svolto molti anni il ruolo di pretore poi in Cassazione e alla Commissione Tributaria aveva 85 anni i funerali sono stati fissati per mercoledì alla chiesa parrocchiare di Loreto lascia tre figli poi invece più sotto la Tari la tassa sui rifiuti bollette per quasi 20 milioni di euro l'incasso atteso dal Comune di Pesero taglio alle famiglie con Ise sotto i 22 mila euro tre rate su quattro non le pagano quindi c'è da pagare lì la Tari comincia così il giornale l'articolo ossia la tassa dei rifiuti in Comune prevedono di incassare quest'anno 19 milioni 917 mila euro dal 3 al 5% in più dell'anno scorso per pagare c'è tempo ma si fa per dire potete farlo in una volta sola entro il 16 di settembre ma se pensate di rateizzare la somma dovrete tenere a mente quattro scadenze ovvero il 16 di settembre il 16 di ottobre il 16 novembre e il 16 di dicembre questo per quanto riguarda la Tari e i pesaresi che ci ascoltano e che devono pagare appunto in queste due modalità qua e tornando continuando sempre a parlare su questo filone delle bollette sulla Carlino delle Marche la Dancona il titolo bollette da incubo aziende in ginocchio nelle Marche sono più di 6 mila le imprese che in autunno potrebbero decidere di fermarsi o chiudere a causa del caroenergia qui fatture da record dice Massimo Marchetti direttore del Cargo Pierre fatture record che arrivano fino a 70 mila euro d'inverno il riscaldamento sarà a rischio nel centro commerciale si sta già pensando a misure drastiche per risparmiare qualche cosa e poi i pannelli fotovoltaici sul tetto ci hanno evitato guai peggiori i costi sono triplicati ma grazie al buon momento della ristorazione non dovremo alzare i prezzi dei prodotti poi non so se avete fatto caso io credo che dietro ci sia un progetto davvero diabolico perché uno stava che sta già pensando dico vabbè proverò a fare qualche cosa con il pellet per esempio per scaldarci dentro casa provate ad andare a comprare un sacco di pellet e poi ne riparleremo è aumentato anche quello e addirittura triplicherà quindi c'è qualcosa che non c'è qualche tentativo veramente di farci morire tutti quanti le strade della provincia sistemate senza criterio questo è il titolo d'apertura invece della pagina di Val Cesano come vedete la protesta del sindaco di Terre Roveresche annunciata un'assemblea popolare parliamo della viabilità che è di competenza della provincia nel nostro comune che è versa in uno stato preoccupante e pericoloso nonostante le continue segnalazioni manca una programmazione degli interventi realizzati a spot senza nemmeno avvisarci il risultato praticamente dice il sindaco è sotto gli occhi di tutti stiamo preparando una manifestazione comunque pacifica in pubblico chiamando i cittadini ad adunata per far sentire la nostra voce intanto c'è la statale chiusa per una frana avvenuta per il maltempo nella sera di sabato nei pressi di Urbania è stata chiusa temporaneamente al traffico in entrambe le direzioni la strada statale 745 la cosiddetta Metaurense nel tratto vabbè 3 km 9,9 12,2 le squadre di Anas stanno lavorando dalla serata di sabato per rimuovere materiali e detriti mentre la pagina di Urbino apre con la politica ora ritirata la delibera di Sgarbi mostra avulsa dalle celebrazioni sul seicentenario di Federico il PD e Viva Urbino contestano la spesa di 200 mila euro a carico del comune sull'arte contemporanea e poi sotto monastero di Cagli si aggrava il cedimento del tetto il nubifragio ha provocato un ulteriore crollo a Cagli intervengono i pompieri dunque vedete quando piove comunque i danni ci sono e dobbiamo dire che tutto sommato rispetto ad altre situazioni che abbiamo visto anche sulle croniche nazionali insomma qui tutte perlomeno nel Pesarese per il momento le grandinate non si sono viste quindi dobbiamo insomma ringraziare il cielo almeno per questo perché oltre il danno poi sarebbe stata anche la beffa di vedere raccolti andare in fumo l'estate si allunga a Senigallia invece ancora turisti settembre andrà bene fino all'undici operatori soddisfatti per l'andamento della stagione vacanze da 5 a 7 giorni e poi si parla di sfilate di VIP quindi insomma il corriere ne dà conto insomma se poi siete curiosi di sapere chi sono questi VIP andate a leggervi l'articolo intanto il parcheggio disabili occupato da un'auto abbandonata sul lungomare Mameli i camper riversano lì qua mi atterra anche qui scene di ordinaria non follia insomma scene di ordinaria quotidianità e questo succede quando si incontrano purtroppo e si ha a che fare anche con persone senza senso e senza senso civico senza educazione civica qui invece al posto di tagliare le ore scolastiche tagliare i giorni di scuola bisognerebbe ammuntarli e insegnare un po' di educazione civica allora noi ci fermiamo qua l'informazione torna questa sera alle 20 e 30 con il telegiornale Occhiala Notizia vi auguro come sempre di trascorrere una serena giornata e se volete collaborare con la nostra redazione il numero lo vedete in sovraimpressione c'è il sito occhialanotizia.it oppure 338 4968 250 a tutti voi buona giornata grazie a tutti